Anche l'ex senatore e sindaco di Sassari Nanni Campus sostiene la proposta di referendum dei riformatori sardi con cui si punta a far inserire nella Costituzione il principio di insularità. Questa mattina la firma ha preso i banchetti presenti in via Roma. Finalmente i sardi hanno un'occasione irripetibile per superare storiche divisioni e ritrovare unità sotto la bandiera della loro identità, spiega il professor Campus. Io ritengo che sia davvero, non ci sia nemmeno da doverne discutere, lo constatiamo ogni giorno che l'insularità per noi è un problema e questo non può essere un qualcosa che noi dobbiamo chiedere ogni volta, deve esserci un riconoscimento giusto, normale, legalizzato e regolarizzato o meglio regolamentato che riconosca quelli che sono i limiti che l'insularità ci pone da un punto di vista della sostenibilità economica del nostro sistema perché il resto dell'Italia e dell'Europa possa appunto metterci e riconoscerci le stesse condizioni di tutti gli altri territori. Quindi al di là di tutto credo che sia una battaglia assolutamente giustificata, ma ripeto con giustificazioni che sono di natura quotidiana, cioè noi lo tocchiamo con mano ogni giorno. Una battaglia che riguarda tutti i sardi. Assolutamente, non può essere una battaglia dei partiti. E' chiaro che si inserisce in questo tantissime posizioni politiche diverse, ma è altrettanto vero che se noi sardi non impariamo davvero a sostenere insieme le nostre ragioni, arriveremo sempre secondi. E' possibile firmare anche presso l'Ufficio elettorale del Comune in Piazza Santa Caterina.